Le celebrazioni per il 4 novembre, festa delle forze armate, nella villa comunale, la cerimonia ufficiale organizzata all'Aquila a Pescara, omaggio al milite ignoto. Alberto Orsini. L'unità del popolo italiano e delle istituzioni per continuare a lottare contro il Covid nel ricordo degli appartenenti ai tanti corpi militari che hanno dato la vita in servizio nelle fasi più drammatiche della pandemia. In questo senso si è celebrata in tutta la regione la centoduesima giornata dell'unità nazionale delle forze armate. All'Aquila cerimonia la villa comunale con alza bandiera, inno di mameli e deposizione di una corona al monumento ai caduti. Le forze armate hanno saputo corrispondere anche in questo momento difficile mettendo a disposizione i propri medici, gli infermieri, le strutture mediche. E questo fa sì che le forze donne e gli uomini delle forze armate dimosclano di essere una risorsa preziosa ed insostituibile del nostro paese. Quindi, Santa Messa celebrata dall'Arcivescovo Metropolita, il Cardinale Giuseppe Petrocchi, alla chiesa di Santa Maria del Suffraggio, nota come delle anime sante, in Piazza Duomo, dove ci saranno stand dei vari corpi fino alle 18. Sempre nella storica Piazza del Mercato, alla presenza dei reparti schierati, è stata consegnata la bandiera tricolore a una scolaresca del liceo scientifico Bafile del capoluogo. Cerimonie istituzionali anche in Piazza Garibaldi a Pescara, dove inoltre in via Milita Ignoto è stata scoperta una lapide che ricorda il soldato senza nome caduto nel primo conflitto mondiale di cui ricorre il centenario, alla villa comunale a Chieti e in via Alemazzini a Teramo.